La speranza in Dio non delude perché il Signore è fedele e la promessa della vita eterna radicata nell'unione a Cristo risorto ci aiuta a avere un atteggiamento di fiducia di fronte alla morte. Sono le parole di Papa Francesco nell'omelia della messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno, celebrata all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Gesù infatti ci ha dimostrato che la morte non è l'ultima parola, ha sottolineato il Pontefice, e nutrendoci del suo corpo e sangue ci uniamo alla speranza della vittoria definitiva del bene sul male, sulla sofferenza e sulla morte. Legati così a Cristo sappiamo che la comunione con i defunti non rimane solo un desiderio, un'immaginazione, ma diventa reale. La fede che professiamo nella Ressurrezione ci porta ad essere uomini di speranza e non di disperazione, uomini della vita e non della morte, perché ci console la promessa della vita eterna radicata nell'unione a Cristo risorto. Questa speranza, riaccessa in noi dalla parola di Dio, ci aiuta ad assumere un atteggiamento di fiducia di fronte alla morte. infatti Gesù ci ha dimostrato che essa non è l'ultima parola, ma l'amore misericordioso del Padre che ci trafigura e ci fa vivere la comunione con Lui. Grazie a tutti.